Allora qui fate, oh oh oh, e nel corso di magia, vai! Ancora? Ok! Quando Johnny va, che strane cose fa, lui può spostare tutto quel pensiero E finire e sincero, di tutti tutto sa, vuoi che legge del pensiero Più forte! Ok! Che Johnny gira e va, che strane cose fa, lui vola con la forza del pensiero Ci riesce a vedere davvero, chissà poi come fa, ma che affascinante Johnny Johnny, Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo Johnny E come sempre riuscirai Ancora? Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo Johnny Ma non ci riesco proprio mai Grazie Grazie a tutti Tutti insieme, dai! Johnny, è quasi magia, Johnny, riprova di nuovo Johnny E come sempre riuscirai E come sempre riuscirai Grazie